wey bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi anche oggi un sacco di novità per quello che riguarda i prossimi giorni di fortnite ieri per fortuna è arrivata la pace 14.10 che ha visto l'arrivo della mega location di tony stark a questa specie di isola gigante con ben due location da esplorare la nuova macchina e tante novità ma abbiamo visto anche ovviamente i primi droni di galactus che riportano l'rpg in game oh my god nel video di oggi però parleremo di un sacco di novità non ancora trattate la nuova console l'arrivo della nuova customizzazione dell'eroe i nuovi balli dedicati a tiktok e i nuovi potenziali tanta tanta roba tanta roba prima comunque volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto se la trovo di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi ed è proprio sbam la nuova immagine della nuova nintendo switch un secondo bundle di fortnite con nintendo per tutti quelli che non si ricordano il primo era la double elix la skin in poche parole dell'archetipo però con le colorazioni appunto di switch bianco e rosso veramente una delle skin più rare in assoluto potrebbe essere così anche per questo nuovo bundle il bundle wildcat questa skin in realtà già l'avevamo vista parecchi mesi fa ma non si era ancora saputo pubblicamente dove fosse incastrata la nuova nintendo switch ha veramente tanto di fortnite a partire dalla trama come vedete molto molto bella che va a riprendere le skin più importanti il pesce secco abbiamo anche la pieli la banana il testa di pomodoro il miascolo raven insomma tante e anche la console in sé veramente molto bella con i due bordi giallo e azzurro e il logo dell'autobus della battaglia devo dire ragazzi che è molto carina sono molto molto propenso a dire che questa potrebbe diventare un'altra skin davvero rara perché non si sa ovviamente quanti bundle verranno prodotti e quanti soprattutto verranno venduti e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché una delle più grandi novità che sono state scoperte all'interno di questa pace 14.10 è la customize your hero quindi la possibilità di personalizzare un eroe quindi una skin in realtà che verrà proposta nello shop in realtà non è una ma sono ben otto e che avranno la personalizzazione infinita che cosa vuol dire ragazzi vuol dire che potremmo modificare un sacco di particolari delle nostre skin un numero illimitato di volte voglio farvi vedere intanto uno spezzone che vi faccia capire un po meglio di che cosa sto parlando perché è veramente un'idea geniale grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti a differenza delle altre skin come ad esempio maya o il custom ombrello la possibilità appunto di personalizzare infinite volte la nostra nuova skin da supereroe è un una cosa assolutamente ben gradita quindi non vedo l'ora di vederla in game tra l'altro potremmo utilizzare un'enorme quantità di adesivi per personalizzarla proprio al meglio tra cui anche gli adesivi olografici che verranno messi come backpack tanta 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 roba ragazzi ovviamente non abbiamo ben chiaro quando saranno disponibili ma penso nel giro di una manciata di giorni e come vedete qua un esempio di un bel po di nuovi adesivi che potremmo utilizzare per dargli un tocco di personalizzazione in più e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi ci sta per arrivare un nuovo balletto ragazzi dedicato a tik tok quindi per tutti quelli che seguono la piattaforma è il mio canale anche tik tok lo trovate lo trovate non posso farvi sentire l'audio ma posso farvi vedere il balletto in sé guardate un po' ora se qualcuno conosce il nome del balletto lo scriva assolutamente qua sotto nei commenti perché è davvero molto simpatico molto molto carino anche qui non vediamo l'ora di vederlo probabilmente sarà questione di pochissimi giorni e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché arriva un nuovo bundle di qua del quale ancora non si capisce proprio il perché e come verrà strutturato come vedete sono tre skin che conosciamo benissimo la femmina del ragno muscia e la skin non mi ricordo mai il nome di quello lì quello che c'è anche nella colorazione arancione e azzurra come vedete ragazzi avranno due varianti la prima è la variante bianca la seconda è la variante corrotta e qua ragazzi facciamo un bel tuffo nel passato vi ricordo che noi abbiamo già avuto la possibilità di modificare una skin con il livello della corruzione ed era la skin palla 8 parlo se non ricordo male della season 1 di questo capitolo 2 la cosa particolare che oltre a non capire bene se il bundle sarà a pagamento o se arriveranno le possibilità di personalizzare queste skin sappiamo che noi potremo scegliere il livello di corruzione quindi non sarà come su palla 8 che più livelli e più aumenta la corruzione ma semplicemente avremo una feature quindi una funzione nel nostro inventario che ci permetterà di scegliere il livello di corruzione desiderato anche qui staremo a capire più avanti come verranno strutturati e quando verrà proposto speriamo non costi euro perché non lo so quanto potrebbe andare non lo so e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi ed è proprio lui ragazzi questo è uno degli argomenti più caldi di quello che si è trovato nei file di gioco l'avete riconosciuto tutti sto parlando di venom ragazzi antagonista storico perché parlo di venom perché sono state trovate due cose relative a lui la prima ragazzi è una legacy quindi la faccia di venom ma ancora non si sa bene come si otterrà quella legacy la seconda invece è una cosa ben più evidente il venom smash and grab uno dei poteri appunto che verranno attribuiti voglio farvi ascoltare proprio gli audio ufficiali che arrivano da questo potere insomma ragazzi abbiamo ascoltato un po' di anche ciò che sta per arrivare insieme al potere di venom sappiamo che ne sono stati introdotti di nuovi ovviamente già ieri mattina il potere quello di tony stark quindi di iron man ma arriverà è arrivato anche il potere orca miseria porca di shiulk e sta per arrivare anche quello del wild wind che in realtà è già disponibile da utilizzare nella nuova ltm insomma gli eroi non sono finiti le notizie però sono finite ma le novità le scopriremo piano piano giorno per giorno io per adesso vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video news mi raccomando non dimenticate di lasciare un bel like iscrivetevi ai miei canali a me mi trovate proprio adesso in live su twitch ciao